Buonasera a tutti e la prima cosa è il ringraziamento a tutti voi anche perché siete riusciti solo con la vostra presenza a stemperare l'attenzione che c'è in tutti noi, vedere tutti voi e le vostre facce ha un risultato determinante, quello di non toglierci il sorriso che abbiamo avuto durante tutta questa campagna elettorale e che avremo fino alla fine e anche dopo. Quindi grazie. Ieri sera durante il comizio della lista Liberanizza si è parlato a lungo del mancato accordo tra il Partito Democratico e altri partiti, anzi sarebbe meglio dire spezzoni di partiti perché non hanno la possibilità, come ha detto la stessa candidata Brigandì, di mettere il loro nome nel simbolo, quasi avvergognarsi di partecipare a qualcosa, la voce, il volume più che voce. A proposito di potersi in qualche modo freggiare di partecipare a un progetto, ieri doveva partecipare l'onorevole Ardizzone dell'Udc ma improvvisamente è stato colpito da un problema alla voce, una gravissima raucetine che gli ha impedito di parlare. Peccato che a fine comizio parlava normalmente, benissimo, ci abbiamo parlato un po' tutti, probabilmente qualche medico, suo amico e suo compagno di partito gli aveva dato qualche pillolina magica che gli ha fatto tornare la voce solo a fine comizio. O forse qualcuno gli ha tirato le orecchie, cosa che qua non succede mai. Ma vedete come ci hanno abituati quelli della lista Liberanizza, anche questa volta sono arrivati in ritardo, non sono stati attenti perché l'argomento è già stato spiegato tante e tante volte, non ultimo proprio di pomeriggio dagli schermi di Tele90. E ritengo che continuare a parlare di questo sia solo una distrazione rispetto ai reali temi di questa campagna elettorale. E tuttavia, proprio per venire incontro a quanti di voi sono stati distratti, non mi sottrarrò ad affrontare questo argomento che ormai ha abbondantemente annoiato i nostri concittadini. Dicevo del ritardo a cui sono abituati il candidato sindaco Brigandì e i promotori della sua lista. Sono arrivati in ritardo di anni, forse decenni, nel rendersi conto che il sindaco di Tommaso fosse un cattivo amministratore. Lo hanno dovuto frequentare abbondantemente, sostenere. Qualcuno ha fatto anche l'assessore nelle sue giunte, qualche altro è ancora oggi consigliere di maggioranza. Non mi pare di aver letto da nessuna parte, prese di distanza da parte del consigliere Carmelo Trimarchi, sull'attuale amministrazione di Tommaso. Sono arrivati tardi a rendersi conto della gestione fallimentare del lato 4 e del ciclo dei rifiuti a Nizza. Prima il sindaco di Fiume di Nizio, onorevole De Luca, assessore designato della lista libera Nizza, ha dovuto appoggiare, difendere, sostenere Alessandro di Tommaso, quale componente del consiglio di amministrazione del lato e i relativi emolumenti. Sono arrivati tardi nel proporre la raccolta differenziata e porta a porta dei rifiuti, con il relativo sconto per i cittadini sulle tariffe comunali. Lo avevamo già detto noi in tante, tante, tante altre occasioni. Sono arrivati tardi nello scoprire l'aumento delle tariffe comunali, in particolar modo della Tarso. Vedete, il 16 gennaio, quando ancora doveva iniziare la campagna elettorale e qualche altro era distratto probabilmente, il Partito Democratico ha denunciato la stangata di Di Dommaso sulla Tarso, ha denunciato il conflitto di interessi che c'era tra padre e figlio per quanto riguarda lato. Non ho visto, non ho visto altri, non ho visto Siciliavera, non ho visto l'Udc, non ho visto Fli, non ho visto nessuno. Sono arrivati tardissimo sul piano regolatore, sulla mancanza di zone verdi, di strutture sportive, sulla tutela del territorio dell'Albe e del Torrente Landro e Nisi, sul caso Via Villafranca, sulla tutela e valorizzazione del centro storico e dei quartieri, sulla valorizzazione del lungomare. Tutto questo era già stato scritto con una nostra nota, il 23 ottobre 2010. Dove eravate allora? Dove eravate allora? Naturalmente tutte queste carte sono a disposizione di chiunque. Avremmo potuto fare le fotocopie e distribuirle, ci mancano i fondi, scusate. Io vengo da una famiglia di maestre, mia moglie, la donna della mia vita è una maestra, le mie sorelle, le mie zie, quindi non è un insulto dire maestra. Una cosa però mi hanno insegnato tutte queste maestre, non si copia, se non sapete fare i compiti non li fate, non si copia. Un ultimo accenno al comizio di ieri, lasciate stare la storia politica e la tradizione del Partito Comunista Italiano a Nisi. Primo, intanto il Partito Democratico non è solo, non proviene solo da questa tradizione, non è solo il Partito Comunista, il Partito Comunista fa parte dei valori che il Partito Democratico ha, ma non è solo questo, il Partito Democratico è tanto altro, molto di più, molto più vasto. Sarebbe, non sarebbe corretto costringerlo in questo recinto. E un'altra cosa che vorrei dire, questa è una tradizione che in ogni caso comunque non vi appartiene. E vi ricordo che quando Berlinguer parlava di questione morale, voi eravate dall'altra parte, eravate dalla parte dei nani e delle ballerine. E a proposito di questione morale, visto che la candidata sindaco è di Fli, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa di questo articolo di Repubblica. Fini, Presidente della Camera e Presidente di Fli, chi è sotto processo non deve candidarsi. Comunque questo è un problema vostro, non nostro. Avete citato il sindaco avvocato Ciccio Romeo. Ora, parlare delle persone scomparse, a mio modesto avviso, è sempre di cattivo gusto. Felice Romeo, mio carissimo e fraterno amico, penso che mi perdonerà se lo faccio solo una volta in tutta la campagna elettorale. E lo faccio ricordando una cosa. L'avvocato Ciccio Romeo fu sconfitto due volte come sindaco, nel 78 e nell'83. subito dopo ci fu sempre accanto, restò accanto a tutti noi, con coerenza e dignità. Non ha cambiato partito! Ma quelli erano, probabilmente erano altri tempi, o molto probabilmente erano altri uomini. Io, insieme a tutto il circolo, all'unanimità, rivendichiamo la decisione di aver firmato l'accordo distribuito ieri, perché tutti insieme avevamo superato tutte le perplessità di cui finora ho parlato. avevamo superato la perplessità verso un candidato autoproclamatosi, che aveva fatto il pendolo però in questi anni, tra opposizione, maggioranza, deluco, opposizione, domani dove sarà? Non si sa. Avevamo superato la perplessità derivante dalla presenza del socio, o ex socio, ditemi voi, ovvero dell'onorevole deluco, quindi dell'ex socio della politica, dell'andamento politico, della gestione politica del nostro territorio di Tommaso, perché è indiscusso che gli ultimi cinque anni sono stati un binomio deluco di Tommaso. Avevamo superato le perplessità che nascevano dalle affermazioni del portavoce di Sicilia Vera e anche degli altri partecipanti dell'Udc e del Fli, che dicevano apertis verbis, una sola parola di latino so io, a differenza di altre, che tutti insieme potevamo lottare massimo per la lista, certamente non per il sindaco, in quanto di Tommaso avrebbe vinto sicuramente. Se questo non è vero, il consigliere Lombardo, il consigliere Cugliotta, il segretario dell'Udc così dicono, Matteo Franciglia, presenti a tutte quelle discussioni, a quella presente anche il candidato sindaco, a cui si diceva in faccia, tu non potrai vincere mai, vengono qui e mi smentiscono. Noi non corriamo per vincere solo qualcosa, a parte che non corriamo per vincere, noi corriamo per cambiare questo Paese, che sono cose diverse, sono cose diverse. Una cosa però non l'avevamo accettata, Carmelo, ci siamo impuntati, su questo ci siamo impuntati, ovvero che il vice sindaco dovesse essere indicato da Carlo lo Schiavo, vi giuro, su questo mi sono impuntato, perché quando ho avuto la bozza dell'accordo e ho visto scritto che il candidato, il vice sindaco, doveva essere scelto da Carlo lo Schiavo, a questo mi sono impuntato, mi dispiace. Scherzo a parte, quell'accordo era la fotocopia, il copia e incolla di un accordo fatto a Santa Teresa. Lo dico non perché ci fosse niente di male, ma lo dico per ricordare a me stesso e a tutti voi, che dopo che l'abbiamo stracciato noi, in maniera civile, con un solo comunicato stampa, qualche giorno dopo, l'onorevole De Lugo ha lo stesso accordo, identico, preciso, lo ha strappato a Santa Teresa. Allora, come si dice, il lupo di malacoscienza come opera pensa, se siamo stati noi in malafede, figuriamoci De Lugo a Santa Teresa come è stato, anche perché l'ha strappato ancora dopo, quindi ha voluto portare la trattativa ancora più avanti. Se a queste premesse, poi aggiungiamo che nell'accordo, come avete potuto leggere tutti, perché ve l'hanno distribuito, quindi è pubblico, si parlava solo di posti e poltrone. Se aggiungiamo che in otto giorni, il candidato sindaco designato, non ha sentito una sola volta, una sola volta, il bisogno di riunire le persone che stavano dando vita a questa aggregazione, che non si è mai parlato in dieci giorni né di programmi né di candidati, dimostrando così l'incapacità da parte della consigliera Brigandì di esercitare una leadership autorevole e propositiva. Il circolo del PD non poteva fare altro che prendere sempre all'unanimità la decisione di uscire da un accordo di apparati e non di persone, non di cittadini, non di idee, e questo io sono orgoglioso di averlo fatto. Come lo champagne, che è nato per errore, da questo presunto errore è nata Lista Cambianizza, che è come lo champagne, a differenza di altri vini di scadente qualità. E io sono orgoglioso di essere stato protagonista insieme al circolo del PD e a tutto il gruppo Cambianizza di una storia con la S maiuscola fatta di novità, passione, entusiasmo, competenza e impegno civile. Credo di aver chiarito in maniera definitiva che le azioni del nostro circolo in questi anni hanno denunciato in modo inequivocabile a il fallimento e l'inefficienza dell'amministrazione di Tommaso alla quale ci siamo sempre opposti in modo compatto e chiaro, senza inciuci di alcun tipo. E da decenni il ritardo temporale arrivano sempre tardi, arrivano sempre dopo. E' programmatico della candidata Brigandia e della sua lista. C, che solo la lista Cambianizza guidata da Giacomo D'Arrico può rappresentare il vero cambiamento di questo comune. Noi non possiamo lasciare il nostro comune nelle mani di un novello Callisto Tanzi, proprio così con i cittadini. Il nostro comune assomiglia sempre di più alla Parmalat. Come Tanzi, come Callisto Tanzi, anche di Tommaso, ripete sempre i conti sono in ordine, soltanto che per pagare i fornitori dobbiamo accendere mutui, per pagare gli stipendi dobbiamo accendere mutui, per i progetti piccoli che siano dobbiamo accendere mutui. Ma se tutto va bene, dottore Di Tommaso, perché dobbiamo sempre accendere mutui? Perché? Probabilmente perché non va tutto bene, perché probabilmente il nostro comune scoppierà come è scoppiata la Parmalat. Risparmiare sulle spese senza però dover perdere in termini di efficienza e servizi. Questo è un punto qualificante del nostro programma. Come può avvenire tutto questo? La risposta sta in una parola, valorizzazione. Valorizzazione della macchina amministrativa e delle risorse umane già presenti e operanti nel nostro comune, eliminando in tal modo strutture esterne e sprechi. se si riesce a dare valore a ciò che si ha non è necessario ricorrere all'esterno. Risorse nei dizionari significa fonte di ricchezza. Le risorse umane presenti nel nostro comune sono fonte di ricchezza per il nostro paese. In quest'ottica la lista cambianizia propone l'accesso al progetto Agire Por che prevede lo scambio di buone prassi in materia amministrativa e gestionale tra comuni delle regioni del nord e comuni delle regioni del sud i quali ricevono così una formazione pratica da chi già applica determinati meccanismi in maniera assolutamente gratuita. Proponiamo l'abolizione di tutte le istituzioni inutili che comportano spese aggiuntive non produttive per il comune con affidamento delle rispettive responsabilità agli assessorati competenti. Proponiamo che gli incarichi vengano affidati a rotazione ad imprese e professioni presenti sul territorio comunale. Qualcuno penserà ma l'abbiamo sentito ieri sì ma non l'abbiamo scritto prima. verrà adottato il regolamento interno sul personale studiato in modo da garantire da un lato efficienza e i servizi al cittadino e dall'altro il rispetto dell'esigenza del personale flessibilità degli orari turnazioni ecc. Nizzardi non è più tempo di sprechi né in termini economici né in termini di tempo il paese fermo l'amministrazione di Tommaso ha tirato il freno da molti anni ormai sta a voi far ripartire la nostra macchina le chiavi sono in mano vostra le chiavi voi le potete utilizzare il 6 e il 7 maggio votando la lista cambianizza votando il candidato sindaco Giacomo d'Arrico per un vero cambiamento di questo paese basta con le copie basta con i programmi taroccati e basta con l'amministrazione di Tommaso è ora che vada a casa è ora che vada a casa grazie